La Roma ha battuto l'Inter a San Siro per 3-0. Un 1-2 ficcante, preciso, imprendibile per i difensori delle Milan che questa volta veramente nulla possono di fronte a questa giocata spettacolare. Purtroppo è finita. La Juventus è fuori dalla Coppa dei Campioni. Deluso dalla tua squadra del cuore? Niente paura. Controradio scende in campo e sotto l'albero è pronta a regalarti una notte da Champions. Dirigenti, giornalisti, collaboratori e tutti i protagonisti della nuova stagione di Controradio si affronteranno in un match che si preannuncia infuocato. Ti aspettiamo lunedì 23 dicembre a partire dalle 20 presso il Centro Sportivo Olympic Center di Bari. Radio cronaca in diretta sulle frequenze di Controradio con super ospiti, il commento tecnico di vecchie glorie del calcio ed opinionisti e tante straordinarie sorprese. Controradio, il calcio come non l'avete mai visto. Grazie a tutti.